La giocherà all'indirizzo di qualche compagno di squadra, è arrivato il fischio degli arbitri di Rever Cortez Pallone che passa sotto le gambe di Leandro Garzia Pereira Con Rever Cortez, occhio ancora al numero 10 Che calcia in diagonale, questa volta le responsabilità di Garzia Pereira non ci sono, è un gran gol di Rever Cortez Esatto, questa volta è veramente un gran gol diagonale Reverte La rincorsa del numero 10 E' tutto il giorno interno E' tutto il giorno passato in casa E' tutto il giorno interno E' tutto il giorno interno Cortez, il gol del ex di Cortez Che non esulta, ha fatto pochi mesi Tallul, la palla dentro, sorpresa In quelle mese Manfroy per andare sul fondo Dentro da Rever Cortez Che trova l'aride delle tre azioni Rever Cortez tiene il pallone Ancora il numero 21 Che calcia Mammarella Benissimo E palla che è entrata Palla che è entrata Dice di Roma Marella Palla che è entrata E quindi c'è il vantaggio di Rever Cortez Palla che è entrata E a rinanzare anche subito il contropiede Corsini 3 Sporca il pallone Attenzione al contropiede Un 3 contro 1 Reverte da Franzini Che controlla ancora dentro Da Reverte Che tra valdo a 0 Si è fatto sorprendere qui Il Reale Rieti Con una palla persa Si è scatenato il contropiede Bravo qui Franzini A restituire Palla di generosità A Reverte Cortez Che a un minuto e 18 secondi Al termine del primo tempo Trova la rete Del 2 a 0 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti